Sì, perché non è solo un fatto di club delle vetove, è proprio il club delle donne in generale che a noi uomini ci sta creando problemi, perché la donna tende sempre ad ingrandire, a fare delle cose più di quello che pensava, ti chiede sempre di più. Tu gli dai uno spermatozoo e lei ti fa un fio, tu gli fai la spesa e lei ti fa da mangiare per una settimana, tu gli dai un bacio e lei vuole l'amore per tutta la vita. A una l'altro giorno gli ho detto 150 abbassano, dammi mille Chico, o vedi? Non si può fare con le donne, ormai c'è un cambiamento forte e poi sono cambiate anche le dinamiche, su parliamo se chi ha, a parte delle mille e dei 150 è il posto, il posto fisso, il lavoro non è facile. L'altro giorno due fidanzatini, lui la guardava e gli faceva io vorrei un posto nel tuo cuore, lei se gira, sì ma non è un posto fisso Chico, non ti allargare, perché effettivamente il problema c'è, dove vai? Non hanno le possibilità, le senti parlare fra di loro, quando senti parlare due uomini capisci la differenza, capisci il vero problema che stiamo passando noi. L'altro giorno al bar i due uomini che parlavano fra di loro, uno gli fa l'altro e dice ma tua moglie ha letto com'è? Chi ne dice bene, chi ne dice male, io ce so che vi più niente.